Perché stiamo a casa in questi giorni, Nacchere? Perché c'è coronavirus. E cos'è il coronavirus? Che fa venire sempre perché non si può andare da nessuna parte. E quindi bisogna? Sare a casa per tutti i giorni. Non si può giocare, non si può rapicare. Ma che fa tardi è giocare a Nacondino. E la mia amichetta non la vedo da altri giorni perché c'è coronavirus. Grazie. 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 Grazie.